Società prestanome per comprare auto e trattori senza pagare l'IVA. A portare alla luce la truffa i danni dello Stato è stata la Guardia di Finanza di Arezzo nell'ambito delle azioni specifiche mirate al contrasto dell'evasione fiscale. Le fiamme gialle hanno così scoperto la frode messa in atto da un imprenditore che opera nel settore della compravendita di auto e macchine agricole e del suo socio in affari, nonché un commercialista. Secondo i finanzieri i due avrebbero acquistato i veicoli e i layout senza applicare l'IVA con un danno all'erario per oltre 220.000 euro, il tutto grazie a false dichiarazioni di intento che permettevano agli acquirenti di ottenere la fatturazione in regime di non imponibilità della tassa attestando la disponibilità di un platform IVA inesistente e la condizione di esportatore abituale. I due infatti si sarebbero serviti in un'impresa poi finita sotto indagine che sarebbe risultata essere un mero pressanome. Attraverso questo strumento tra il 2015 e il 2016 l'azienda si sarebbe fatta carico di alcune operazioni di acquisto di macchine agricole e auto di grossa cilindrata aventi come destinatari finali imprese riconducibili allo stesso management della società. I protagonisti della frode sono stati così denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e emissione di fatture per operazioni inesistenti. È stato inoltre eseguito un decreto di sequestro cosiddetto per equivalente fino al raggiungimento di 227 mila euro che ha riguardato disponibilità bancarie e immobiliari appartenenti ai due indagati.